Io sono Damiano Zito, oggi trader indipendente, ho un background in ingegneria e lavorativo come manager in azienda. Da qualche anno faccio trading e grazie al percorso che ho intrapreso in Airforex ho potuto fare anche delle scelte che oggi mi vedono come trader e il trading la mia professione principale. Dopo i primi anni di studio di trading ho deciso di sposare questo metodo, questo approccio proprio perché è in linea con quello che era il mio percorso di vita, quel viaggio che stavo facendo di scoperta di valori interiori e quindi mi ritenevo e mi ritengo tuttora allineato con quello che è il metodo e le persone che fanno parte di questa community. Oggi sono anche un collaboratore di Airforex, quindi di questa realtà e quindi come collaboratore aiuto la community nella creazione di contenuti. Però prima di questo sono quindi un trader e membro anche dell'Accademia, Accademia che adesso mi vede nella fase esperienziale e come dire anche come frontman sul canale YouTube con una rabbrica dedicata a raccontare questo meraviglioso percorso di apprendimento esperienziale nel trading. Il lavoro che sto facendo è semplicemente un lavoro di conoscenza di me stesso che sto facendo anche grazie al trading e ai percorsi che facciamo con Antonio. Questo perché il trading oltre ad essere un mondo affascinante nel quale ci appassioniamo alla tecnicità dei grafici, in realtà è fatto per il 90% da esseri umani e dalla loro psicologia. Quindi ho capito che questa era la chiave e ho deciso appunto di approfondire questo argomento grazie all'Accademia e ai percorsi di Airforex.